Un messaggio, un modello da esportare soprattutto ai giovani, perché questi modelli sono i modelli che i nostri giovani possono sicuramente guardare con quella speranza in vita Papa Francesco, quella speranza che bisogna conoscerci e appunto fare ecco della diversità un valore aggiunto, non una discriminante. Ecco qual è la raccomandazione che parte proprio da lei, che parte dalla Chiesa verso coloro che sono il futuro, ma ancor prima il presente del mondo. Io credo che dobbiamo avere una particolare attenzione nei confronti dei giovani, la Chiesa in questo ultimo periodo l'ha dimostrato soprattutto con il sinodo dei giovani, che ha visto concentrarsi su di loro proprio questa grande attenzione, questo grande interesse, perché giustamente i giovani sono il futuro. E credo che è importante questa attenzione proprio perché la tentazione anche dei giovani, pur con tutto il loro slancio diciamo, è un po' quello di respirare il clima del nostro tempo, che è un clima di individualismo e di ripiegamento su se stesso. E quindi aiutarli proprio a capire che anche una realizzazione di se stesse, dei propri sogni, Papa parla spesso dei sogni dei giovani, dice non lasciatevi rubare i vostri sogni, passa attraverso proprio un'apertura cordiale e costruttiva nei confronti degli altri. Credo che questo è il messaggio che deve essere rivolto ai giovani e soprattutto deve tradursi in un'opera anche di educazione per aiutarli proprio a vivere questa dimensione.